Alberto Gianinazzi, ghiacciaio. Qui, su questo sasso erratico, approdato sulla riva glaciale, siedo sui miei pensieri e mi dimentico fra questi salti d'acqua. Odo il grido di un rapace in agguato veglia la sua preda, con le ali tese a ombreggiare il salto gracile di un ermellino fra un lichene e l'altro al sole della sua sorte. Poco lontano la lingua fredda degli acciaio lambisce questa stretta valle. Una volta la sua bocca e si ritira per ritornare alla sua culla. E più in alto ancora, sopra i pascoli morenici, l'ultimo pendio scosceso della montagna, prima di toccare il cielo, il manto bianco e le nevi eterne.